chi vuole giocare nella sabbiera? giochiamo insieme! scegliamo un gioco e poi... ma va bene anche così! ottimo lavoro, tigli! chi ha chiamato una supereroina? wow, che corsa! attenta, tigli! non piangete! bambine! dobbiamo condividere la sabbiera! ricordate! c'è spazio per tutte e tre nella sabbiera! va bene! dovremmo giocare insieme! e ora di una bella pausa respiro! inspira! uno, due, tre! espira! come faccio a farle giocare insieme? non solo a fare i castelli! non solo alle macchinine! e non solo coi supereroi! e non solo coi supereroi! ma tutte e tre insieme! ci sono! ho un'idea! oh, oh, bambine! mi serve aiuto! mi servono tre supereroine per salvare Teddy! ma vi servono delle macchinine per salvarlo! e dovrete costruire una pista intricata! che ne dite, bambine? siete pronti a collaborare? salvare Teddy? e guadagnare uno slickerino? yeah! buona fata! wow! che pista è incredibile! avete già scelto le macchinine! e ora vi servono i costumi da supereroine! siete perfette, super bimbe! pronte? partenza? via! sono partite! le super macchinine corrono sulla pista a tutta birra! intorno al rastrello e qui! intorno al secchio! oh, oh! quello cos'è? supereranno la pericolosa rampa? yeah! attenti, super bimbe! è un tunnel! attenti ai gatti giganti! qui c'è una foresta selvaggia! ci penso io! e ora sfrecciano sul ponte! ci siete quasi super bimbe! qualcuno salvi questi tiguerini! stickerini! oh! ce l'avete fatta! ci siete guadagnate questi stickerini rosa per la gentilezza e la collaborazione! sono a forma di macchina perché... pare che le super bimbe vogliano giocare ancora! bravi cuori felici! avete imparato i vostri amici! chi sono oggi i nostri amici al cuori felici? tu ami cucinare, vero Barry Boo? facciamo i biscotti di San Valentino insieme! e Harper Hux! e Sofia Sparco! decoriamo i biscotti e... cerchiamo di guadagnarci degli stickerini nel frattempo! cuori felici, giochiamo! la nostra splendida giornata iniziamo! oggi decoriamo i biscotti a forma di cuoricino per San Valentino oh, Barry Boo! sembra delizioso! Sofia, per caso il tuo colore preferito è il rosa oh, Harper! la tua torre è altissima! oops! attenta! c'è mancato poco! ehi, voi due! ricordate! amare significa condividere! berri Boo! Sofia! ricordate le regole dell'arcobaleno dei cuori felici? vedete? cuori gentili e mani gentili condividere e fare a turno è un ottimo modo per ottenere i vostri stickerini del giorno, sapete? bella condivisione, Sofia! sarai la prossima! mua! oh, no! ah! 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 che avevi lavorato così bene! oh! lo so! lo so! devi essere triste! abbraccio! no, 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 no! oh, Sofia! so che volevi gli zuccherini rosa! ma, che ne dici di quelli viola? sono bellissimi, non trovi? oh! oah! ah! ah! zoia, Harper voleva solo aiutarti! ti volle bene! no! aaaaa! ah! ah! no! aaah! oh no! no! boo! so barryboo è dura quando non va come vogliamo oh sofia stai piangendo so che sei triste ok charlie hai bisogno di una bella pausa respiro inspira dal naso uno due tre espira dalla bocca 3 2 1 ci sono ho un'idea un po' di sciampetto risolverà tutto torniamo alla nostra attività di san valentino scommetto che vi guadagnerete degli stickerini condividendo tutto che ne pensate siete stati bravissimi a condividere ecco vi siete guadagnati degli stickerini questo rosa è per la gentilezza ed è a forma di cuore come i vostri biscotti ben fatto ora li metto sulla vostra lavagna bravi cuori felici avete imparato coi vostri amici chi sono oggi i nostri amici al cuore felici tofia sparkle la regina dei fiori tipito pronto per l'avventura e harper hugs una farfalla pronti per la sorpresa aprite gli occhi oggi proveremo qualcosa di nuovo per guadagnare degli stickerini speciali una corsa ostacoli che ve ne pare sembra che tipi sia nato pronto forza bimbi cominciamo puoi farcela sofia provaci puoi farcela sofia provaci ottimo tippi ma stai attento brava harper ci sei pesc EXPECSA oop pesa preso ti vedi provare sofia super sofia puoi farcela sofia scivola piano sullo scivolo ah aaaaah è tutto ok bambini sistemiamo tutto prendiamoci tutti una bella pausa e respiro ok ispirate 1 2 3 espirate 3 2 1 come posso incoraggiare sofia a trovare una cosa nuova e assicurarmi che tutti si divertano ci sono ho un'idea proviamo di nuovo ma stavolta lavorerete insieme come una squadra c'è anche un premio super speciale che vi aspetta 3 super stickerini per 3 bambini coraggiosi e ovviamente a ogni squadra coraggiosa servono costumi da super eroi pronti partenza via no 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 ce l'avete fatta super bimbi ora metto questi stickerini sulla vostra lavagnetta sono blu perché avete provato qualcosa in più mi sa che avremo bisogno di un bel bagno sono fiera di voi per aver trovato una casa nuova credo che ora soffia piaccia la corsa a ostacoli bravi cuori felici avete imparato coi vostri amici chi sono oggi i nostri amici al cuore felici? Sofia Sparkle, regina del muffin Harper Hubs, dolce come il miele Berry Boo, la miglior pasticcera ora chi vuole aiutarmi a preparare una torta e guadagnarsi degli spicherini? wow è una bella torta Berry ma sembra un po' complicata ma se è quella che vuoi fare ci possiamo provare forza bambini sul grembiule lavoriamo insieme giusto Berry prima dobbiamo pesare la farina credo ci sia troppa farina Harper ma ci basta raddoppare la farina per cambiare le dosi bambine ricordate che stiamo collaborando sapete? Dakota sarà più bella beh è il primo tentativo non piangere Berry di certo è più buona di quel che sembra è interessante ok bambine ci serve una pausa respiro inspira inspira ci sono sono molto orgogliosa di voi per aver provato a fare la torta ma quando si collabora è importante porre le orecchie in ascolto dobbiamo ascoltare la Chef Berry stavolta in più ascoltare è un ottimo modo per guadagnare stickerini ai vostri posti pronto partenza via ottimo lavoro ecco fatto sembra deliziosa vero? ora la parte migliore la decorazione credo che Harper e Sofia si siano lasciate un po' andare non fa niente Berry divertirsi con gli amici è la cosa più importante wow è più bella di quella del tuo libro è più bella di quella del tuo libro ottimo lavoro avete ascoltato e collaborato vi siete guadagnate uno stickerino e una fetta di torta bravo bravo gli stickerini sono verdi simbolo dell'ascolto e sono a forma di torta belli vero? e ora è tempo di un bel bagnetto bravo bravi cuori felici avete imparato con i vostri amici chi sono oggi i nostri amici al cuori felici? cucù cucù è Berry Boo e lì chi c'è? è Snoozer Bear e lì vedo Dottidodo ora ne manca solo uno dove sarà mai? è Rocky Rumble è uno scherzo cattivo Rocky hai spaventato Berry e Dottie non vi siete spaventati? allora va bene ora cosa volete fare oggi per aiutarmi e guadagnare degli stickerini? potreste aiutarmi a preparare i snoozer per andare a letto dobbiamo fare molto piano per aiutarlo ad addormentarsi siete tutti pronti? allora iniziamo! niente è meglio di un bel bagno caldo per far rilassare un bambino oh! ah 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 Rocky mi passi lo shampoo per favore? bravo Rocky tieni il biberon fermo con molta calma laviamo la faccia cucù è ora di dormire per questo gattino assonnato vengo qua eccoci oh povero snoozer ti sei spaventato vieni qui dovete fare piano per far dormire snoozer è ora di una bella pausa respiro ispirate uno due tre espirate tre due uno come faccio a far dormire snoozer se gli altri bambini vogliono giocare ci sono roky perry dotti mi serve aiuto è ora che i gattini assonnati vadano a letto ma dove saranno? ecco un gattino ma dove sono gli altri? piccoli 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 è un altro piccoli per i gattini è ora di dormire ahhh e lo è anche per te ce l'abbiamo fatta grazie per l'aiuto e per la vostra gentilezza vi siete guadagnati degli stickerini rosa oggi sono a forma di letto perché bravi cuori felici avete imparato coi vostri amici pronte per una festa di compleanno in discoteca? a tutte piace la musica ma c'è un'altra cosa che piace a tutte la corona di compleanno ma di chi sarà questa corona di compleanno? vediamo chi sono oggi i nostri amici al cuore felici? sarà forse tu a Barry Boo? è il tuo compleanno oggi? no? beh allora deve essere è il compleanno di catty cat neanche il tuo vero? beh allora Lala Gugu è il tuo compleanno? evviva cuori felici che inizi la festa benvenuti benvenuti alla festa in discoteca di Lala Gugu beh siete bravissimi a ballare bambine ma penso che manchi qualcosa in questa festa chi è che vuole cantare? ok ok la festeggiata sarà la prima poi sarà il turno di Barry Boo e di catty cat vero Lala? oh io 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 oh 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 lala so che ti piace cantare ma sarebbe bello se lasciassi cantare anche le tue amiche sai condividere è un buon modo per ottenere uno stickerino ancora una beh, se Barry e Katie sono d'accordo Barry, Boo, Katie, Kat non volete cantare con l'ala oh no, come posso rimediare? devo far tornare le bambine a giocare insieme oh yeah, è in fretta una pausa a respiro mi aiuterà inspira uno, due, tre espira tre, due, uno ci sono! ho un'idea! guardate questi muffin potete aiutarmi a decorarli per l'ala ho gli zuccherini sapete, non credo che l'ala volesse escludervi dal karaoke si è solo lasciata prendere la mano sapete quanto ama cantare oh, sente molto la vostra mancanza ricordate, quando perdoniamo i nostri amici possiamo guadagnare degli stickerini oh, ah, stickerini oh, ah, stickerini oh, ah, stickerini oh, ah, scherzi oh, tanti auguri a te tanti auguri a te tant' auguri a te tant' auguri a te tant' auguri a te hehehe chi 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 chi... io tanto gi navi a te sì lo tanto gi navi yeah Ahah! 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 Quando amiamo 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 Amo amo amo! Ahah! Si che rini! Bravi cuori felici! Avete imparato coi vostri amici! Chi sono oggi i nostri amici al cuore felici? Berry Boo! Guarda! Il tuo uovo è rosso fragola! Il tuo colore preferito! Arrivano altre uova! Ce ne servono tante per la caccia alle uova! Ahah! 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 E' inquietato! Attento! Tatti doodle! Attenta! Ahah! 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 Guardate bimbi! Tatti ha già decorato il suo uovo! Ahah! 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 Ok bambini! Ora chiudete gli occhi mentre nascondo le uova! Non spirciate! Ahah! 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 Ok bambini! La caccia alle uova inizia! Via! Ahah! 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 e le uova? dove sono finite tutte le uova? è tutto ok tipi possiamo nascondere quelle che abbiamo già povera Barry Boone so che sei triste ma non so dove siano tutto ok ma dove saranno finite tutte le uova? è ora di una bella pausa respiro inspira uno due tre espira uno due tre ci sono ho un'idea ok bambini se vogliamo trovare le altre uova dobbiamo trovare Dottie giochiamo a nascondino Dottie dovremmo condividerle le uova Dottie io so quanto ti piace condividere presti sempre le tue matite e i tuoi colori agli altri bambini vero? e sai una cosa condividere le uova ti farà guadagnare stickerini ok sei molto gentile Dottie ok bambini ora faremo un'altra caccia alle uova che ne dite? guardate quante uova bambini siete stati bravi a condividere e sapete che quando amiamo 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 vi meritate tutti uno stickerino per la condivisione bravi cuori felici avete imparato coi vostri amici e ora vi meritate tutti un bel dolcetto per il vostro lavoro oh no dove è andato tippy? tippy attento chi sono oggi i nostri amici al cuore felici? oh è Barry Boo ma che bella biglia che hai è Dottie doodle riesci a prenderla bravo tippy tot chi vuole fare una gara di biglie con me? è un bel gioco da fare insieme ora vi mostro vi basta unire i tubi così possiamo aggiungere uno zig zag qui un vortice qui e voilà ora si mettono le biglie in cima posso prenderla Dottie? ah! pronti? via! sapevo che vi sarebbe piaciuto perché non provate a farne una insieme? attimo Barry Boo molto creativo Dottie bravo tippy non dimenticare di unire i pezzi tra loro ora Dottie condividiamo bambini dobbiamo collaborare ricordate? eh 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 Bambini, è tutto ok! È ora di una bella pausa! Respiro, inspira! Uno, due, tre! Respira! Tre, due, uno! Come aiuto i bambini a collaborare? Ci sono! Ho un'idea! Non piangete, bambini! Ho un piano! Facciamo un progetto! Prima di costruire, facciamo un disegno di cosa vogliamo fare! Così sarà più facile collaborare! E sapete cosa otterrete se collaborate? Degli stickerini! Ottimo, Dottie! Aiutiamoci l'un l'altro! È già bellissimo! Ora è il tocco finale! Berry Boo! Ottimo progetto, bambini! Ora costruiamo! Molto intricato! Ed è la giusta altezza! Fatto! Ora, siete pronti a provarlo? Pronti? Partenza? Via! Bravi bambini! E vi siete guadagnati uno stickerino! Per aver lavorato bene insieme! E ora? Cosa vorreste, bambini? Tornate a disegnare, eh? 3, 2, 1... Decollo! Dai, Snoozer! Non vorrei mica dormire mentre andiamo nello spazio! Chi sono oggi i nostri amici al cuore felici? Tieniti forte, Snoozer Bear! Dooser! Gran bel decollo! Continua così e arriveremo subito alla luna! Astronauta e Lala, Boo Boo e Sofia Sparkle! Pronte al decollo per lo spazio! Ok, bambini! La nostra astronave ci aspetta! Testa, spalle, gambe, piedi! Forza, astronauti! Andiamo! Guardate che stelle! Ora siamo nello spazio! La nostra missione di oggi è arrivare fino al sole, proprio laggiù, vedete? Poi giù per lo scivolo spaziale, tra i cuscini pianeti, fino a tornare sulla Terra! Potreste anche guadagnarvi degli stickerini nel viaggio! Guardate che bello! Yeeey! So che sembra lontano, ma basta andare per gradi! Per prima cosa, salteremo tra i cuscini pianeti per arrivare alla luna! Pensate di potercela fare! Brava, Lala! Salta, salta, salta! Wow! Stai andando bene! È stato fantastico! Ok, Sofia! Sofia? Sofia, dove sei? Che c'è, Sofia? Pensavo ti piacesse questo gioco! Ok, puoi partecipare quando vuoi, Sofia! Sarai un'ottima astronauta! No, no! Oh, ma come sei gentile, Snoozy! Sofia verrà a giocare quando sarà pronta! E per la tua gentilezza hai guadagnato uno stickerino! Ah, vieni la chiavola! Sì, carini! Dai, Sofia! Puoi essere la prossima se vuoi! guardate! oh no! pioggia di meteoriti! corrette! sofia aiutaci! non so perché sofia non voglia giocare come mai? tu lo sai lalagugu? ok ci vuole una bella pausa respiro inspira uno due tre espira tre due un forse sofia non riesce a saltare come lalagugu e non si sente ala ci sono! ho un'idea! forza sofia stavolta gattoneremo fino allo spazio e tu sei bravissima in questo vero? ah lalagugu sei molto gentile ad aiutare la tua amica ti meriti uno stickerino che bello vederti provare cose nuove e coraggiosa! un piccolo passo per una bambina un grande stickerino per sofia! stickerini! guardate che stelle! guardate che stelle! bravi cuori felici avete imparato con i vostri amici! è ora di festeggiare con un buon abbraccio! chi sono oggi i nostri amici al cuori felici? la nostra piccola star lalagugu dotty doody! la nostra artista! e infine... snoozer bear! sta sonnecchiando fuori felici giochiamo! la nostra splendida giornata iniziamo! dato che ci stiamo travestendo volete giocare ai vigili del fuoco? potete ottenere uno stickerino se collaborate i vigili del fuoco salvano vite e spengono gli incendi indossano un uniforme per cui ci servono degli elmetti ok! riproviamo! siete adorabili! dobbiamo solo mettere queste giacche e siamo perfetti! ora una cosa importante dei vigili del fuoco è che sono una squadra dai! lascia stare quel tubo! lala! ricordate che abbiamo orecchie che ascoltano! è tutto ok charlie! puoi farcelo! ti serve solo una pausa respiro inspira inspira due tre espira tre due uno due intanto devo calmarli con uno snack e un po' di coccole e ancora un po' di esercizi per collaborare tutti i vigili del fuoco a rapporto nella zona di addestramento anche kitty vuole fare la vigile del fuoco ora se volete essere vigili del fuoco e guadagnarvi uno stickerino ci sono delle cose che dovete imparare dovete essere pronti in ogni momento dovete essere coraggiosi! e cosa più importante dovete collaborare! ok bambini ecco la sfida finale per superare l'addestramento e ottenere uno stickerino ecco cosa dovete fare spegnete quel fuoco! congratulazioni! avete superato l'addestramento! oh no! kitty è bloccata su un albero! se ci fossero dei vigili del fuoco per aiutarla oh no! ottima idea! possiamo usare la tua coperta! ce l'avete fatta ottimo lavoro di squadra bambini vi siete guadagnati uno stickerino questo è rosso come l'amore e esso un camion da vigili del fuoco ora attacchiamoli alla lavagna scommetto che avete fame dopo tutto un'altra emergenza bravi cuori felici avete imparato coi vostri amici chi sono oggi i nostri amici al cuore felici storia della buonanotte che bel libro ottima scelta la lavagna bellissimi dati doodle sono proprio uguali a noi saranno i nostri personaggi per la storia di oggi ok iniziamo c'era una volta svegliati snoozer bear ti perderai la storia della buonanotte dove eravamo? c'era una volta tre bambini che si preparavano per andare a letto ma prima dovevano cenare snoozer bear mangiava con molta educazione bene beh più o meno dai ma che faceva dotti doodle? oh no cercava di nascondere le sue verdure per non mangiarle ma dotti dimenticava che poteva guadagnare uno sticherino provando a mangiare le verdure dotti doodle ha provato una carota padella padella p dopo cena è l'ora del bambetto ma Dottie aveva schizzato il povero snoozer bear e ora aveva il sapone negli occhi snoozer era triste ma l'ala gugu sapeva come aiutarlo e usò le sue mani gentili per aiutarlo ad asciugarsi gli occhi lascia! stichettini! arrivò il momento di mettersi il pigiama snoozer! fermo! piccolo contorsionista ci siamo quasi fermo ma snoozer bear non piaceva mettersi il pigiama si dimenava e si contorceva finché Charlie non ne botte davvero più ma Charlie sapeva che dopo una bella pausa respiro poteva aiutare snoozer bear inspira uno, due, tre espira uno, due, tre ecco fatto! ho un'idea! piccoletto stai fermo un po' usa le tue orecchie e ascolta qui Charlie iniziò a cantare una canzoncina per snoozer bear e riuscì a infilargli il pigiamino guardate! snoozer bear si è perso in ascolto sticherini! e vissero per sempre felici e contenti buonanotte piccoli buonanotte snoozer bear buonanotte snoozer bear luo ho cartone! visto? non è così male! aia! bello! vero? Oh, Lulu! È davvero carino! Sì, hai ragione, Charlie! È davvero divertente! Forza, voi due! Dobbiamo fare i bambini solo per un giorno! E poi hanno vinto onestamente! 3, 2, 1, via! Ma come ci riesce? Oh, puoi! Oh, sì! Mi piace! Da morire! Oh, sì! Ferma! Lulu! Hai quasi... quasi... finito! Ho una gran fame! Super fame! Anche io! È quella la cena! Vieni! Chiara! Ehi, Theo! Era la mia cena! Sì, grazie! Sì. 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 Finalmente un po' di relax È davvero faticoso essere bambini Hai ragione Ho voglia di andare a dormire Su col morale È il momento dello shampoo No, Teo Non tutta quest'acqua Sembra che anche essere adulti sia dura Avete sonno, bambini? Allora, chi ha voglia di imparare ad andare sui pattini? Bex, stai bene? Mi fa male la gamba E anche il gomito Povero Bex Dobbiamo metterlo in un posto comodo Scusatemi, bambini Non potrò giocare a niente Visto che mi sono fatto male E avevo pianificato tante cose divertenti con voi Povero Bex Ci deve essere qualcosa per riuscire a tirarlo su Riflettiamoci su Ottima idea, Lulu Giochiamo al piccolo ospedale Benvenuto in ospedale Ti visiterà la dottoressa Ehi, dottor Abbiamo fatto una lastra a raggi X della bua di Bex Cosa ne pensa, dottoressa? Oh, grazie L'inferniere controllerà la temperatura Come va la temperatura? Bona! Troppo bassa, eh? Pare che al paziente servano delle coperte Grazie, infermiera Ecco l'infermiera e con le sue medicine Oh, che fortuna! E quello cos'è? Cioccolato, mostarda e broccoli Ha un sapore delizioso Come sta il nostro paziente, dottoressa? Nino, Nino, Nino Questo paziente è accaldato Serve un impacco di ghiaccio Ben fatto! Ehi, non è male Che cos'è? Banana, gelatina e crocchette per gatti Grazie per avermi coinvolto, bambini Sono felice che siamo riusciti a giocare Mi sento già meglio Ho una certa fame Non c'è niente di meglio Di qualche buon manicaretto Quando non si sta bene Almeno ci sono i bambini A prendersi cura di noi Ho una certa fame Ho una certa fame Ho una certa fame Come va a prendersi cura di noi Ehi, non c'è niente di più Ehi, non c'è niente di più Ehi, non c'è niente di più Grazie a tutti.